Vincenzo Italiano può sorridere La Fiorentina si porta a casa Una vittoria 4-0 in amichevole Contro il Grosseto Con gol al 41esimo di Brecalò 44esimo trova il suo primo gol In maglia viola Arthur Che la sua partita è stata ottima Coronata dal gol Nel secondo tempo Due gol per tempo Al 71esimo Sapiri E all'88esimo la chiude Luka Jovic Anche oggi sinceramente ho visto una viola Meglio di quella della Stella Rossa Ma sinceramente ancora la difesa Non è che mi convinca tanto Non è che mi convinca tanto E quindi è l'unica cosa che migliorerei Questa è la mia opinione su Grosseto Fiorentina 4-0 Ditemi la vostra qui sotto i commenti Like, commenti, condivisione e campanellina Bella Ciao! 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 Ciao!